Dottore Brambilla, la presentazione del corso universitario a Crotone è sicuramente un momento importante, ma anche un fattore importante per il futuro di Crotone. Certo, la realizzazione di una facoltà di medicina a Crotone ha diversi significati. Sicuramente per l'azienda sanitaria può avere il significato di una valorizzazione anche delle competenze che già ora ci sono tra i professionisti medici dell'azienda sanitaria, apre prospettive di partnership con l'ambiente universitario, con le aziende ospedaliere universitarie che possono essere utili alla gestione di alcune attività assistenziali qui nella provincia, di cui noi abbiamo bisogno perché negli ultimi tempi, diciamo che da parte di alcuni medici, una minoranza di medici, c'è stata disaffezione rispetto alle nostre strutture. Devo dire che ci sono tuttora dei professionisti molto competenti, io li ho conosciuti personalmente, devo dire che sono rimasto anche molto ben impressionato, non faccio nomi ma ci sono alcuni che sono proprio, lo sapevo già perché mi erano stati anche già indicati quindi dalla rete delle mie conoscenze. Quindi è una realtà, quella crotonese, che trarrà solo beneficio da un rapporto strutturale con l'università. Anche sia da un punto di vista della valorizzazione dei nostri professionisti, appunto, che dalla realizzazione di attività congiunte in partnership, mi riferisco in particolare all'azienda ospedaliere universitaria Dulbecco, dove alcuni nostri professionisti sono andati a lavorare, ma non è solo per questo, perché oggettivamente lavorare in partnership significa anche avere un confronto con realtà professionali importanti, quindi un miglioramento professionale per tutti.